vitale della farfalla. Quattro fasi, ripetete con me, quattro fasi. Le uova, il bruco, la crisalide, la farfalla. La farfalla. Stiamo imparando oggi tutto sul ciclo vitale della farfalla. E questi qua, che cosa sono questi? Che cosa sono questi? Questi, questi, ripetete con me, questi sono i bruchi che diventeranno grandi e si trasformeranno in farfalle. Quando le farfalle sono pronte, li libereremo all'aria aperta. Siete d'accordo? Sì!